Pronto polizia, abbiamo avuto dei laser a casa, c'è una roba in di denti. In manette anche Giuseppe Nicolosi di 30 anni, Placido Privitera di 28, Giuseppe Zappalà di 23, Ettore Roberto Virgata di 22, Angelo Zinna di 25 anni e Graziella Rapisardi di 38. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza è stato possibile individuare le targhe dei mezzi utilizzati per la fuga e risalire ai rapinatori. Le indagini sono scattate il 26 ottobre 2015, in seguita ad un colpo ad una gioielleria nella centralissima via Etnea di Catania. Due giovani, a volto scoperto, si sono introdotti nel locale e puntando la pistola verso il titolare del negozio e minacciandolo di morte, erano riusciti a portar via 12.000 euro di bracciali in oro, scappando a bordo di uno scooter. Farebbero capo all'organizzazione criminale di Mauro Zappalà e Nicolosi. Quest'ultimo, agli arresti domiciliari, avrebbe messo a disposizione la sua abitazione per pianificare i colpi con tutta la banda.